Hey Filmmaker, oggi vedremo insieme 10 cose che sicuramente stai sbagliando su Adobe Premiere Pro o che probabilmente non fai nella maniera corretta. L'ultima mi ha letteralmente salvato la vita. Iniziamo! Se questa è la prima volta che capiti sul canale, io mi chiamo Nicola Bartolini e nella vita faccio il Videomaker e il Content Creator. Se vuoi vedere altri tutorial di questo tipo, ti consiglio di iscriverti al canale e attivare subito la campanella. Questi 10 errori di cui ti parlerò oggi li ho fatti anch'io all'inizio del mio percorso con Adobe Premiere Pro, quindi non preoccuparti, mettiti comodo e iniziamo il tutorial. Il primo consiglio che voglio darti è quello di non andare a selezionare le clip in questo modo ma cliccando A, come puoi vedere, ti si attiveranno queste due freccette che ti faranno spostare come vuoi le tue clip. Cliccando invece Shift A, le tue freccette si sposteranno verso sinistra e sposterai solamente le clip di sinistra. Questa shortcut mi ha veramente velocizzato di tanto il lavoro. Il secondo errore che si fa spesso è quello di copiare in maniera sbagliata gli effetti da una clip alle altre. Infatti prendiamo il caso di questa clip che vedete anche in rosso, gli ho applicato un effetto tempo di posterizzazione. Io voglio applicare questo effetto a tutte le clip che ho in questo momento sulla timeline. Per farlo in maniera veloce ti basterà fare Command C selezionando la clip con l'effetto, puoi andare a cliccare su tutte le altre, tasto destro e incolla attributi. In questo modo, come potete vedere, l'effetto tempo di posterizzazione si andrà ad applicare anche a tutte le altre clip che ho selezionato. Così facendo avremo tutte le clip sulla nostra timeline selezionate con tempo di posterizzazione. Lo potete fare ovviamente con qualsiasi effetto di Premiere Pro. Se volete andare ad applicare invece un effetto a tutte le clip della vostra timeline senza utilizzare il discorso copia e incolla, vi basterà selezionarle tutte e cliccare due volte sull'effetto specifico, in questo caso sfocatura direzione. Come potrai vedere, cliccando sulla mia clip in fondo ci sarà già l'effetto sfocatura direzione. Il quarto consiglio è legato alla color grading. Infatti, se le tue clip sono ben spezzettate e devi fare una color unica per tutti i tuoi file, per semplificarti il lavoro e non andare a lavorare su ogni singola clip, ti basterà cliccare File, Nuovo, Livello di regolazione e andrai così a applicare un livello di regolazione su tutte le clip della tua timeline. Una volta che andrai a fare la Color Correction sul nostro livello di regolazione, potrai vedere che questi settaggi a cui noi stiamo lavorando saranno applicati a tutte le clip della nostra timeline. Quindi, lavorando appunto sulle luci, in questo caso, come puoi vedere, si modificano sia qui, ma anche nelle altre clip che sono presenti nel nostro file di lavoro. Molti di voi credono che per applicare un motion blur alle nostre clip serve After Effects. Vi dico un segreto, non è assolutamente vero. Vi basterà infatti applicare l'effetto Trasforma alle nostre clip, creare un movimento della nostra clip da una posizione all'altra, andare a cavare il check su Usa l'angolo otturatore e più andremo ad alzare l'angolo dell'otturatore, più aumenteremo il motion blur della nostra clip. Per andare a modificare il guadagno audio delle vostre clip, vi basterà andare a cliccare sull'audio specifico che volete modificare e premere G. In questo caso vi apparirà la vostra finestrella del guadagno audio. Molto veloce, molto rapido, al posto che cliccare con il destro e andare a selezionare il singolo tasto di guadagno audio. Io lo faccio sempre. Quindi, selezionate l'audio, cliccate G e vi appare la vostra finestrella per modificarlo. Settimo consiglio, non tagliare le tue clip utilizzando tutte le volte lo strumento lametta. Piuttosto, utilizza molto più velocemente il tasto Command-K e in questo modo andrai a tagliare in maniera rapida e veloce nel punto specifico che ti interessa la tua clip. I tasti che ti sto dicendo sono per Mac. Considera che se io su Mac utilizzo il tasto Command-K, tu se utilizzi uno Windows dovrai utilizzare Control-K. Quindi tutti i tasti che io ho citato prima utilizzando Command su Windows ti basterà utilizzare Control. Se vuoi semplificare ancora di più questo discorso di taglio sulle tue clip, puoi andare su Premiere Pro, scelte rapide di tastiera, aggiungi montaggio e a posto che utilizzare Command-K vai a scrivere E. In questo modo, cliccando semplicemente la E, in automatico il programma ti andrà a tagliare le tue clip. Fidatevi, vi aiuterà tantissimo e velocizzerà di molto il vostro lavoro. Se vuoi velocizzare una tua clip senza andare a modificare la velocità specifica, ti basterà cliccare lo strumento Dilata Frequenza, che è con il tasto R. In questo modo andrai a velocizzare o a rallentare la tua clip utilizzando appunto un semplice strumento. Come puoi vedere, la mia clip si è velocizzata. Se voglio velocizzarla ancora di più, la vado a ridurre sempre di più. In questo modo, più la riduci, più si velocizza, più l'allarghi, più si rallenta. Questo è il risultato finale con la clip velocizzata utilizzando lo strumento di Dilata Frequenza. Mi raccomando, avete anche lo shortcut da tastiera, vi basterà cliccare il tasto R. Per creare invece un effetto boomerang delle vostre clip è semplicissimo. Vi basterà andare a cliccare il tasto Option, copiare la clip a cui volete fare il boomerang, quindi avrete due clip uguali in questo caso. La seconda dovrete fare Command R e andare a fare velocità indietro. A questo punto l'effetto boomerang è già creato, perché avrete due clip uguali, ma che vanno in senso opposto, quindi si sarà creato appunto l'effetto in automatico di boomerang. Molto semplice, vi basta copiare una clip di fianco all'altra e fare il reverse della seconda clip. Ultimo consiglio, ed è quello che mi ha letteralmente salvato la vita su Premiere, è quello di poter aggiungere nuove tracce audio o nuove tracce video in maniera velocissima. Vi basterà infatti selezionare nel caso delle tracce video la vostra clip, tenere premuto il tasto Option e con la freccia in su andare in alto. Come potete vedere si aggiungono in automatico nuove tracce. Potete fare la stessa identica cosa anche con le tracce audio. Vi velocizzerà di tantissimo il lavoro. Qui di fianco ti lascio il mio ultimo tutorial su come esportare i tuoi Instagram Reel in alta qualità. Ti consiglio di guardarlo perché è molto utile se vuoi caricare sui tuoi canali social video in HD. Ti basterà cliccarlo. Se hai delle domande specifiche mi raccomando scrivermi nei commenti. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial. Ciao!